Obiettivo autosufficienza sangue per l'ospedale Sant'Elia di Caltanissette, questa è la mission del Rotary Club Nisseno che ha organizzato una manifestazione per sensibilizzare la cittadinanza sul tema e promuovere dunque la donazione volontaria con il coinvolgimento del Rotaract e Interact di Caltanissette in sinergia con l'unità operativa medicina trasfusionale del Sant'Elia e le associazioni di donatori volontari del sangue presenti in città, e cioè Avis e Fidas. Il 23 febbraio infatti dalle 8.30 alle 13.30 nell'isola pedonale di Corso Umberto erano presenti degli stand informativi e l'autoemoteca della Fidas. Vogliamo raggiungere assolutamente un obiettivo, quello dell'autosufficienza delle sacche di sangue che come sappiamo servono per gli interventi chirurgici e i talassemici e tutte le emergenze. Caltanissetta non raggiunge ancora l'autosufficienza, è costretta ad importare una percentuale di sangue dalle altre province italiane e questo non è tollerabile. Noi ci siamo uniti, stiamo lavorando insieme per promuovere la donazione volontaria tra i giovani, i meno giovani, tutti coloro che possono farlo e diciamo che finora è andata veramente bene, siamo fiduciosi. Abbiamo iniziato in autunno con mettere attorno a un tavolo le associazioni che ho nominato prima per lavorare tutti insieme perché tutti insieme abbiamo questo obiettivo. Ci saranno altre manifestazioni nelle scuole, nelle piazze, sempre insieme o anche singolarmente, ma l'obiettivo deve essere raggiunto, lo vogliamo fortemente. Naturalmente il nostro obiettivo è e rimane sempre l'autosufficienza, cerchiamo tutti i giorni di promuovere l'attività di donazione del sangue che è basilare per garantire le sacche, le unità necessarie ai nostri pazienti. Ricordiamo che noi abbiamo una chirurgia vascolare per cui tutti gli aneurismi rotti piuttosto che gli aneurismi, gli interventi in seguito ad aneurisma necessitano di una buona quantità di sangue. Ma tutti gli interventi, abbiamo un ospedale che è un DEA di secondo livello per cui la necessità è quella di garantire tutte le sacche sia per i pazienti che necessitano di trasfusione in acuto che per i pazienti talassemici, drepanocitici che ciclicamente vengono trasfusi.